Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò e mostrerò dove trovare la runa nel livello Forge Infuocata in Minecraft Dungeons. Siete fortunati perché questa runa è praticamente all'inizio del livello. Una volta che siete entrati da qui, praticamente la runa è vicina. Dovete interagire con questo pulsantino per attivare l'ingresso alla runa, come potete vedere. Naturalmente, come sempre, premetto che dovete finire il gioco, perché se non finite il gioco non trovate la runa. Quindi una volta che avete finito il gioco, venite qua e potete recuperare la runa nella Forge Infuocata.